L'ex ministro imperiese Claudio Scaiola compie oggi 70 anni, ma è costretto a festeggiare, si fa per dire, il compleanno in un'aula di tribunale. Scaiola oggi è infatti a Reggio Calabria per una nuova udienza per il procedimento penale che lo vede accusato di procurato in osservanza della pena nei confronti dell'ex parlamentare di Forza Italia, Medeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e tuttora latitante. Oggi in aula saranno ascoltati alcuni testimoni della difesa e fra una settimana toccherà addirittura Silvio Berlusconi, chiamato dai legali di Scaiola a riferire sull'esclusione delle candidature elettorali di Matacena. Un segno di come Claudio Scaiola non faccia caso ai 70 anni e sia tuttora combattivo e forse persino pronto a tornare in campo come candidato sindaco della sua città.